Cagliari, Catania, Olbia, Palermo e i Balcani con Tirana. Mistral Air, a seguito dell'aggiudicazione del bando della Saga, ha presentato oggi nuovi voli per la stagione estiva 2017 da e per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Mistral Air collega Cagliari due volte alla settimana nel mese di giugno e tre volte nel mese di luglio. Voli bisettimanali per Catania, Olbia e Palermo e quattro voli alla settimana per Tirana. I collegamenti aerei saranno operati con ATR 72 500 da 68 posti della flotta di Mistral Air che fa parte del gruppo Poste Italiane. Le prospettive sono buonissime perché dalle privendite già abbiamo visto un interesse molto ampio, specialmente perché l'aeroporto ci sta aiutando a commercializzare questi voli con loro pubblicità. Come avete trovato l'aeroporto d'Abruzzo? Qual è la vostra prima impressione? L'aeroporto d'Abruzzo per noi è stato sempre interessante ma avevamo ieri per noi sbagliati, diciamo così, perché ieri jet è difficile fare concorrenza a Ryanair. Con l'ATR abbiamo trovato una nicchia di mercato collegando l'aeroporto con queste mete interessanti e ci auguriamo che sarà un progetto che durerà oltre l'estate.